La Sidera Lois ha avviato la procedura di via, la CGL esprime preoccupazione per il possibile annullamento della legge istitutiva del PAUR dopo le osservazioni del Ministero. Franco Marras è stato confermato Presidente delle ACLI, è stato rieletto con 34 voti a favore e due astensioni. Il Consiglio è stato rinnovato per oltre il 50%. Consegnate oggi a Sant'Antio con le case popolari di via San Paolo, i lavori avviati dalla precedente amministrazione sono stati completati con lo stanziamento di risorse aggiuntive. Avviati a Cagliari i lavori di demolizione del Silos di Riva di Ponente, la struttura costruita nei primi anni 70 era stata dichiarata inagibile nel 2011. Ben ritrovati su Canale 40, la Sidera Lois ha avviato la procedura per la valutazione di impatto ambientale, passaggio obbligato per il decollo del progetto di ripresa produttiva nello stabilimento di Portovesme. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio. La Sidera Lois ha consegnato ieri all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente la documentazione inerente il procedimento di valutazione di impatto ambientale, gli elaborati progettuali, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica. Si rimane in attesa degli indirizzi operativi che, come dichiarato dall'assessore Gianni Lampis attraverso PEC del 17 marzo scorso, sono già all'attenzione della Giunta, si legge in una nota della direzione aziendale. I suddetti indirizzi operativi permetteranno alla Sidera Lois l'espletamento degli obblighi per la presentazione dell'istanza di Power. La società conferma la propria volontà di realizzazione del progetto di cui ben si conosce l'importanza occupazionale e strategica sia a livello territoriale sia nazionale. Al fine del riavvio dello smelter, conclude la nota della direzione aziendale, la Sidera Lois rinnova la propria disponibilità fattiva alla collaborazione con le istituzioni locali, regionali e nazionali attraverso i metodi e gli strumenti che le stesse riterranno più adeguati e opportuni. Sull'annuncio della presentazione alla Regione Sardegna da parte di Sidera Lois della documentazione necessaria a dare avvio alla procedura di valutazione di impatto ambientale attraverso il Power, interviene Antonello Congiu, segretario generale della Camera del Lavoro CGL della Sardegna sud-occidentale. Sentiamo Gianpaolo Cerronis. Se dal punto di vista, perlomeno formale, la notizia dell'avvio della procedura di via attraverso il Power riveste un grande interesse per i lavoratori e per il mondo del lavoro in genere, in quanto conferma la volontà dichiarata di realizzare il progetto di ripartenza dello smelter, diventa quasi paradossale che questo avvenga durante la settimana successiva in cui la legge regionale che regolamenta il Power viene messa in discussione dal Governo. A dirlo oggi è Antonello Congiu, segretario generale della Camera del Lavoro CGL della Sardegna sud-occidentale. Considerato infatti che le osservazioni presentate dall'ufficio legislativo del Ministero alla legge regionale istitutiva del provvedimento autorizzativo unico regionale sembrano fondate, ha aggiunto Antonello Congiu, la CGL esprime la massima preoccupazione rispetto alle conseguenze che nel territorio potrebbero derivare dall'annullamento della legge regionale o dallo slittamento dei tempi necessari per la sua applicazione, soprattutto per le realtà produttive della stessa Sidra Lois e di Euralumina. In particolare appare fortemente condivisibile il passaggio in cui l'ufficio legislativo evidenzia che la disciplina della via è mossa dalla necessità di affiancare alla tutela ambientale la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti, esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, finirebbero per incidere negativamente sul relativo assetto, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale. Il timore, insomma, è che complicazioni di natura burocratica, ha sottolineato Antonello Congiu, soprattutto se evitabili o se scaturiscono dall'appossimazione con la quale si affrontano i problemi, da qualsiasi parte arrivino, possano rimandare per l'ennesima volta la ripresa delle attività del polo industriale, trasformando l'attuale dramma occupazionale del territorio in un dramma sociale dagli esiti incerti. Sarebbe opportuno, quindi, che la Regione Sardegna, ha concluso Antonello Congiu, adottasse con assoluta priorità, autorevolezza e buonsenso, tutti gli atti necessari a garantire la certezza normativa in materia, rassicurando le parti sociali, già dai prossimi incontri calendarizzati, sulle procedure necessarie, nel contempo che tutte le aziende interessate avessero comportamenti coerenti con la necessità di riprendere e rilanciare il polo industriale di Portovesme, quale condizione irrinunciabile per la ripresa e resilienza. Voltiamo pagina. Segno di speranza e simbolo di fiducia e ottimismo finché nessuna altra vita possa essere interrotta da un virus assassino che ha privato i sardi dalla libertà e perché la Sardegna possa rialzarsi più forte di prima. Così il presidente della Regione Cristian Solina sa commentato, in occasione della giornata nazionale per le vittime del coronavirus, la messa a dimora di un albero di ulivo nel Parco dell'Autonomia di Villa Devoto a Cagliari. Con questo gesto vogliamo testimoniare vicinanza e affetto a tutte le famiglie sarde che hanno perso una persona cara, a chi si è sentito solo e nella paura ha saputo trovare la via ed il coraggio per uscire dal dramma del Covid a coloro che hanno sofferto e combattuto. Onoriamo la memoria delle concittadine e dei concittadini turritani che spesso in solitudine hanno affrontato il calvario del Covid-19 negli ospedali, senza poter ricevere in quei momenti terribili neppure il conforto dei loro cari. Sono le parole usate dal sindaco Massimo Mulas per ricordare i 18 portotorresi morti per via del Covid-19. La loro foto è stata proiettata da un fascio di luce puntato verso il cielo. Non si conosce il numero esatto dei deceduti. Le immagini sono quelle concesse da alcuni familiari che hanno raccolto l'appello pubblico lanciato alcuni giorni fa dall'amministrazione comunale. Andiamo avanti. Le disposizioni regionali che riguardano i controlli anti-Covid nei porti e negli aeroporti dell'isola devono essere immediatamente estese anche a tutti i porti turistici della Sardegna. Tutti i passeggeri che arrivano con imbarcazioni private devono essere controllati. Non possiamo permettere che i tanti porti turistici dalla Sardegna, da Santa Teresa di Gallura sino a Teulada, restino sguarniti. Il nostro obiettivo è quello di impedire l'ingresso di nuovi casi di positività che possono mettere a rischio la nostra zona bianca e l'unico modo che abbiamo per farlo è l'attivazione di controlli dalle maglie molto strette. Lo sostiene il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Ligioi che ha presentato una mozione in tal senso al presidente della regione Cristian Solinas. Andiamo avanti. Sono 121 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore nell'isola su 3.631 test eseguiti, quindi una percentuale del 3,33%. Si registra un nuovo decesso, sono 170 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, più 7 rispetto al dato di mercoledì, 28 meno 1 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.615. Voltiamo decisamente pagina, riprendiamoci il mal tolto e l'iniziativa di Confartigianato Trasporti Sardegna contro il cartello dei tir, vediamo dunque un servizio. Riprendiamoci il mal tolto e l'iniziativa online che Confartigianato Trasporti Sardegna ha deciso di promuovere per mercoledì prossimo 24 marzo a partire dalle ore 15 a tutela delle imprese dell'autotrasporto isolane che hanno subito danni dalle compagnie costruttrici di tir. I lavori introdotti dal segretario regionale di Confartigianato Sardegna Daniele Serra saranno aperti dai saluti del Presidente nazionale di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani e del Presidente di Confartigianato Trasporti Sardegna Giovanni Millino. Interverranno anche l'avvocato Gianmarco Solas dello studio legale di Amsterdam Omni Bridge Away specializzato nel contenzioso antitrust a livello internazionale. Seguiranno le domande delle imprese che vorranno chiarimenti. In Sardegna le imprese interessate sono qualche migliaio con altrettanti otto mezzi e possono partecipare all'azione giudiziaria presentando le domande entro metà maggio ha sottolineato Giovanni Millino, Presidente di Confartigianato Trasporti Sardegna. Oggi l'azione di Confartigianato nell'isola ha coinvolto centinaia di imprese per circa un migliaio di tir. Altrettante possono entrare in questa grande avvertenza portata avanti per difendere la serietà di tutte quelle piccole realtà aziendali spremute dai cartelli dei grandi costruttori pronti a far profitti a loro spese. La proposta di legge sulle misure straordinarie finalizzate alla compensazione dei costi dell'insularità della Sardegna, approvata dal Consiglio regionale all'unanimità su proposta della Commissione speciale sull'insularità, oggi diventa atto camera numero 2882. È stata incardinata presso la quinta Commissione bilancio e tesoro della Camera dei Deputati. Comincia l'iter parlamentare che porterà il Parlamento a discutere delle misure per colmare quel gap economico e sociale che caratterizza la Sardegna in virtù della sua condizione insulare. Un primo passo lungo il cammino dell'equità economica, spiega Michele Cossa, che rivendica con orgoglio il lavoro fatto dalla Commissione speciale per l'insularità. Lo abbiamo annunciato nei titoli di apertura. Franco Marras, 59 anni dal 2019, presidente regionale delle ACLI in Sardegna, è stato rieletto con 34 voti a favore e due astensioni da un Consiglio regionale rinnovato per oltre 50%. Insieme a Mauro Carta, nuovo vicepresidente delegato, Salvatore Sanna e Daniela Masia saranno i quattro rappresentanti sardi nel Consiglio nazionale delle ACLI che questo venerdì in modalità a distanza eleggerà la presidenza e la direzione nazionale. La candidatura di Franco Marras è stata proposta da numerosi dirigenti regionali e rappresenta la prosecuzione di un forte lavoro di rilancio e riorganizzazione dell'Associazione e dei suoi servizi che sono stati messi a dura prova dalla pandemia e dalle forti innovazioni legislative degli ultimi anni. Il segretario regionale di articolo 1, Luca Pizzuto, interviene sull'avvertenza che riguarda i lavoratori del Comar. Quando ero in Consiglio regionale, insieme all'altro consigliere del territorio Pietro Cocco, abbiamo fatto una dura battaglia perché il servizio di trasporto marittimo verso le isole minori rimanesse pubblico, dice Luca Pizzuto. Quella battaglia fu purtroppo persa. Oggi i fatti ci dicono che le nostre perplessità erano più che fondate. Abbiamo perso ma avevamo e abbiamo ragione. Si ritorni immediatamente ad un servizio pubblico di qualità dove le risorse siano utilizzate per creare lavoro e per questo continueremo a batterci. La giustizia ora faccia il suo corso, conclude Luca Pizzuto. Andiamo avanti. Dopo un lungo iter durato circa 10 anni, segnato da alterne vicissitudini, a Sant'Antioco oggi sono state consegnate le chiavi dei 14 appartamenti a canone agevolato di via San Paolo, ex matatoio, ad altre tante famiglie antiochensi. Il progetto esecutivo di recupero del patrimonio pubblico per la realizzazione di alloggi a canone sociale nell'ex matatoio ed ex officina comunale, avviato dalla precedente amministrazione e approvato nel lontano 2012, aveva infatti subito diversi rallentamenti a causa di intoppi burocratici e mancanza di risorse. Nel 2018, per portare a compimento i lavori, l'attuale amministrazione ha infatti dovuto reperire ulteriori fondi, di 400 mila euro, e indira una nuova gara per l'affidamento del completamento. La consegna odierna arriva dopo quella delle abitazioni di via Trilussa, avvenuta circa due anni fa. Sono iniziati ieri a Cagliari i lavori per la demolizione del silos di Riva di Ponente, costruito agli inizi degli anni 70 ed ormai abbandonato da anni. Vediamo il servizio. Hanno preso il via ieri a Cagliari i lavori per la demolizione del silos di Riva di Ponente. La ditta Deton SRL ha fatto brillare la prima parte del fabbricato realizzato nei primi anni 70 dall'allora Consorzio Agrario della provincia di Cagliari e reso inagibile con ordinanza dei Vigili del Fuoco e dell'autorità portuale di Cagliari da lontano 2011. In questa prima fase è stata demolita la torre Servizi, alta 54,40 metri, e un tempo adibita agli elevatori per il sollevamento dei cereali. Per tirarla giù sono stati necessari 40 kg di esplosivo dislocati in più punti del plesso, mentre la caduta è stata attutita da appositi vasconi di 60 metri di lunghezza disposti lungo tutto il perimetro dei silos. In contemporanea, grazie ad alcune piccole microcariche sistemate nelle vasche, è stato indotto l'innalzamento di un muro d'acqua nebulizzata, alto 40 metri, per contenere la propagazione delle polveri derivanti dall'impatto a terra della porzione. Questo primo step ha richiesto un lungo periodo di progettazione, studi, simulazioni, conferenze di servizi per ottenere le necessarie autorizzazioni e numerosi interventi per lo smontaggio delle parti mobili e delle strutture accessorie, e in un ultimo un notevole sborso da parte dell'ente per la demolizione e la riqualificazione dell'area. Dopo una parentesi di continui tentativi per trovare imprenditori interessati a riqualificare i silos in chiave turistico-ricettiva, ha detto Massimo Deiana, presidente dell'autorità portuale, abbiamo dovuto definitivamente portare a termine il programmato intervento di demolizione, oneroso sia dal punto di vista economico, con oltre un milione di euro di appalto, che è procedimentale per l'enorme sforzo della struttura tecnica per la progettazione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Dopo dieci anni dalla dichiarazione di inagibilità, il porto si riappropria, finalmente, di una vasta area nella parte operativo-commerciale, che verrà destinata al già avviato progetto di riordino e razionalizzazione degli spazi di banchina e retro-banchinali, nonché al potenziamento dei servizi al traffico croceristico. L'ANAS ha aggiunto un nuovo tassello per il completamento della strada statale 195 sul Citana, compresa tra i territori comunali di Sarroc e Pula. La società del gruppo FS italiane ha reso di aver concluso gli interventi di installazione degli impianti di illuminazione a LED e dei portali di segnaletica nel nuovo tratto a quattro corsie. Gli interventi, sottolineano dall'ANAS, che sta anche intervenendo nella strada statale 131 all'altezza di Siligo e tra Marrubbio e Uras, per il ripristino della pavimentazione stradale ormai deteriorata. Sono stati eseguiti nell'ambito dei lavori di completamento dell'8-3 già aperto al traffico. Ci spostiamo ora a Bosa, dove la Giunta Comunale ha approvato all'unanimità la proposta di delibera presentata dall'Assessorato Comunale alla Cultura e del Turismo, che dà la possibilità ai turisti di entrare gratuitamente al Museo Casa dei Riu, alla collezione Melchiorre Melis, alla Pinacoteca Azza e al Museo delle Concerie. L'iniziativa, spiegato l'Assessore Alessandro Campus, vuole essere un impulso a visitare la nostra città e a sostenere gli esercizi commerciali durante la bassa stagione. I costi saranno coperti in parte con le risorse dell'imposta di soggiorno. A Cagliari, nella Marina di Sant'Elmo, è stato inaugurato un SEBIN acquistato da Sor Optimist International d'Italia. Il servizio. È stato inaugurato, alla presenza degli Assessori Comunali dell'Innovazione Tecnologica, Ambiente e Politiche del Mare, Alessandro Guerracino e delle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia, un SEABIN collocato nelle acque del Molo della Marina di Sant'Elmo. A promuovere l'iniziativa alla sezione di Cagliari dell'Associazione Femminile Sol Optimist International d'Italia, che ha come obiettivo la cura dell'ambiente, con particolare attenzione al mare, che non è solo un bene da rispettare e tutelare, ma anche una risorsa per le generazioni future. Appoggiamo e sosteniamo, ha sottolineato Alessandro Guerracino, tutte le iniziative che contribuiscono in qualunque forma a divulgare la sensibilità sul tema del rispetto dell'ambiente e, in particolar modo, sulle tematiche legate all'inquinamento del mare. L'amministrazione che oggi ha aggiunto Alessandro Sorgia ha voluto essere presente con gli Assessori delle politiche del mare e del turismo, manifesta la sua vicinanza all'Associazione Sol Optimist International d'Italia e agli altri soggetti interessati all'avvio di un percorso educativo che bene si inquadra in una strategia di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile della Giunta Truzzo. Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e la Presidente della sezione di Cagliari di Sol Optimist International d'Italia, Maria Ledda. Passiamo ora alla cronaca. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un incidente stradale che si è verificato poco dopo la mezzanotte in via Vittorio Veneto a Olbia. Secondo una prima ricostruzione, un giovane ha perso il controllo dell'auto ribaltandosi diverse volte sulla carreggiata. Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del distaccamento cittadino che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato poi portato in ospedale per accertamenti. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Olbia che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente. Ancora la cronaca. Un operaio 51enne di Guspini è stato fermato dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Quarto in Viale Europa alla guida di una Porsche Macan di proprietà di una concessionaria auto di San Gavino Monreale. È sottoposto alla prova dell'etilometro il risultato essere positivo con un tasso alcolemico pari a 2,04 grammi al litro, oltre 4 volte superiore al limite massimo consentito. La patente di guidaglia è stata dunque ritirata. I carabinieri hanno anche sequestrato l'auto, affidata successivamente al proprietario che si è precipitato a recuperarla. Bentornati in studio. La Filby Will, sindacato rappresentativo dei soli lavoratori della bonifica e dell'irrigazione, ha inoltrato ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna, all'assessora regionale dell'agricoltura e al presidente dell'Ambi, Sardegna, la proposta di modifica della legge regionale numero 6 del 2008 in materia di consorsi di bonifica. La proposta mira ad un ampliamento delle competenze da affidare agli enti di bonifica, allineandole sia alle norme nazionali che alla prevalente legislazione delle regioni, mantenendo comunque inalterate le funzioni attualmente vigenti di indirizzo e controllo che per la Filby devono continuare ad essere esercitate dalla regione. La Filby Will auspica che in Sardegna si possa finalmente aprire un dibattito su questo tema, ha detto il segretario Franco Pani. Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo a Mara Calagonis la prima edizione di Mettiamo Radici per il Futuro. Vediamo il servizio. Si è conclusa con un successo la prima edizione dell'evento Mettiamo Radici per il Futuro, promosso dall'amministrazione comunale di Mara Calagonis. L'iniziativa si è svolta nel parco comunale Cucuruclavoni, dove i bambini delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di Via Colombo, Via Umberto, Via D'Annunzio e Via Garibaldi hanno piantumato, grazie anche alla collaborazione delle loro maestre, 220 piantine di macchia mediterranea donate da Forestas. Sono propri e bambini, ha rimarcato con soddisfazione la sindaca Francesca Fadda, che in questi tre giorni abbiamo voluto coinvolgere e sensibilizzare sui temi ambientali cruciali per il nostro presente e il loro futuro. Da sempre l'albero è simbolo di vita e di rinascita e mai, come ora, è forte in tutti noi il desiderio di superare il triste momento della pandemia, per giungere quanto prima ad un rinnovamento profondo e positivo che porti nuova vita non solo a livello personale e individuale, ma anche in quello dell'intera società. Il progetto quest'anno, per via delle misure restrittive anti-covid, non si è potuto svolgere come avremmo voluto, ma ci rifaremo nei prossimi anni con musica, giochi, laboratori per i più piccoli e merenda per tutti al Parco Craboni. Domenica 21 marzo in programma un nuovo appuntamento dedicato al trekking e alla scoperta della storia del patrimonio naturalistico del territorio, organizzato da Iglesias Turismo. Le guide ambientali, lungo un percorso ad anello di circa 12 chilometri, accompagneranno i partecipanti nella frazione di San Benedetto, nata e sviluppata dai piedi del Mar Ganai, in prossimità di una delle più antiche concessioni minerarie Piombo Zincifere. La partenza è fissata alle ore 9, con il ritrovo dei partecipanti nella piazzetta di San Benedetto. La durata del trekking sarà di circa sei ore, pause comprese, e la prenotazione è obbligatoria nel rispetto delle norme anti-Covid-19. Con questa notizia si chiude qui il nostro telegiornale odierno, io vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica e con Noasa in curso, il nostro telegiornale in lingua sarda. Grazie per essere stati con noi e per l'attenzione, io vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40 e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci. Grazie.